Ciao, ben arrivato sul mio canale YouTube. Prima cosa, se vuoi fare compra e vendita in food, iscriviti al canale, lascia un like al video e se hai dubbi su quello che sto spiegando, lascia un commento qua sotto. Allora, oggi parliamo di budget basso. Vi spiego in maniera semplice come e perché potete raddoppiare il vostro budget. Per budget basso intendo sia che abbiate 20, 50, 100, 150 mila crediti. Di più è difficile perché non riuscireste a comprare tante più card della tipologia di cui vi parlerò, ok? Vi mostro anche degli esempi che hanno permesso chi mi segue, chi è abbonato al nostro canale Discord, abbonato al canale Twitch e di conseguenza accesso al canale Discord per avere consigli esclusivi di compra e vendita, come hanno potuto effettuare il raddoppio dei crediti nella settimana scorsa nella stessa metodologia. Per chiunque guardasse il tutorial più avanti è un video tutorial, quindi potete applicarlo in autonomia ogni settimana sulla base dei contenuti in arrivo e in questo caso dei match in arrivo. Mi raccomando, è importante. Prima di partire vi rubo 30 secondi perché mi è arrivata l'ultima maglietta, è la maglia del Senegal, come potete vedere. Io adoro le magliette delle nazionali africane e la maglia del Senegal è una delle mie preferite. Presa ovviamente su fcmaglia.com, trovate il link in descrizione, coupon sconto del 10% con il coupon Lucio ed oltretutto entro il 10 di ottobre potete usufruire dell'offerta di una maglia omaggio con un ordine superiore a 59€. Quindi approfittatene perché trovate tanta 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 bella roba. Eccoci qua su Foodbin con un esempio pratico della settimana scorsa. Allora, parliamo di incontri principali, ve lo dico subito. Il nostro metodo sta nel andare a vedere quei uno o due match che hanno le maggiori probabilità di essere lasciate. Tendenzialmente mi concentrerai principalmente su una specifica, quella che secondo voi e secondo me ha il 99,9% di possibilità di uscire. Per quale motivo? Perché a me in questo caso non interessa effettivamente poi la partita che sarà rilasciata, bensì interessa sfruttare quelle ore che vengono prima del rilascio della SBC. Quindi il cosiddetto hype. Guardate cosa è successo la settimana scorsa. Giocava Manchester United, Manchester City, o meglio ha giocato ieri, il City ha distrutto lo United e va bene. Quello che a me interessava e che abbiamo fatto con chi mi segue su Twitch, con gli abbonati di Discord, è comprare in abbondante anticipo carte dello United che stavano a prezzi di scarto. 350-400 crediti era il prezzo delle carte esattamente tre giorni prima del rilascio della SBC. Gli incontri principali escono il giovedì. Quindi anche il giorno prima o due giorni prima del rilascio della sfida, le carte costavano ancora 450-500. Quindi magari non riuscite a fare un effettivo raddoppio, va bene. Ciò non toglie che sono ancora prezzi interessanti. Ora, come potete vedere, il picco massimo che ci segnala Foodbin è 900 crediti. Ma sappiamo benissimo che Foodbin ci fa una media giornaliera e vi assicuro che le carte del Manchester United si vendevano fra 1000 e 1100 crediti. Quindi in realtà non parliamo neanche di un raddoppio in questo caso, parliamo anche di un per due e mezzo. Perché se comprate a 350-400-450, arrivare a 1100 sono più 600-700 crediti a carta. Togliendo 50 crediti di tasse, va bene, sono 550 crediti a carta. Quindi più che raddoppio. Ora, come dicevo, il nostro obiettivo è quello di azzeccare la partita più probabile e non quella che verrà inserita, bensì quella su cui tutte le persone nel mondo che faranno investimenti per gli incontri principali andranno a comprare. Le partite di questa settimana sono due super interessanti, Juve Milan e Borussia Dortmund Bayern Monaco. Quindi potete scegliere una delle due partite o entrambe le partite. Andate a prendervi carte, oro, comuni, perché comuni? Perché semplicemente sono quelle che costano di meno. Ed ecco qua che prendete a 500 crediti Ulreich, che adesso riuscite a prendere a 500 crediti. E se fate sniping, se fate aste, portatevi anche a 400-450 facilmente. È una card che giovedì pomeriggio, prima del rilascio delle sfide, vi assicuro che si venderà a 1000 crediti. Oppure vi prendete un qualsiasi giocatore del Dortmund, in questo caso il più economico è Reina, che costa intorno a... anche qua c'è, guardate, Modest, 500 crediti. Lui si venderà ad almeno 900.000 crediti. Le card del Bayern avranno probabilmente leggermente più hype rispetto a quelle del Dortmund. Per quanto riguarda la Serie A, stesso discorso, Juventus. Probabilmente non ci saranno card a 500, magari toccheranno... ah no, ci sono, perfetto. Quindi riusciamo anche a portare via a casa, guardate, 400 crediti, 350. Ok? Questo è una card che andrà a almeno 900 crediti giovedì pomeriggio. Stesso discorso vale chiaramente per il Milan, dove possiamo prendere chiunque, guardate, 400, 450, Salemeckers, Origi. È indifferente chi prendiate, è indifferente, perché tutta la categoria di quella squadra raddoppierà di prezzo. Ok? Dimenticavo una cosa importantissima. Ovviamente l'esempio di oggi è sulla settimana attuale. Oggi che registro è il 3 ottobre. Vuol dire che sta settimana, sto weekend, il sabato gioca Dortmund, Bayern Monaco e Juve Milan. Ciò non toglie che è una tipologia di compravendita replicabile tutte le settimane per tutto l'anno. Ripeto, tutte le settimane per tutto l'anno. Poi ci saranno i momenti in cui, magari da novembre, dicembre in poi, i requisiti degli incontri principali diventano più restrittivi. E quindi significa che dobbiamo, o meglio, possiamo anche tenere delle carte da portare oltre le 19. Ma assolutamente, profitto certo, raddoppio crediti certo, andate a comprare il lunedì o il martedì sulle partite più importanti e rivendete, rivendete il giovedì pomeriggio. Una cosa super fondamentale è quella, mi raccomando, della vendita in AIP pre-sfida. Quindi non dobbiamo portare le card alla SBC. Per quale motivo? Due motivi. Prima cosa, spesso il prezzo in AIP è più alto rispetto a quello che avremo post-sfida. Perché appunto tanti avranno già fatto investimenti, ci saranno tante card buttate sul mercato, ci saranno spacchettamenti, per cui il prezzo non regge. Seconda cosa, non sappiamo mai i requisiti delle sfide. E siccome sappiamo che nelle prime settimane di foot i requisiti degli incontri principali sono molto molto semplici, lo abbiamo visto anche con le card del Manchester United, dove prima della sfida andavano via a 1000-1100 almeno, per non parlare di difensori come Lindelof che andava via anche a 1200-1300, e dopo il rilascio della sfida sono scese a 7-800, perché tanta gente andava a vendere le card su cui aveva fatto investimento, il requisito non era così arduo come si sperava, perché il requisito degli incontri principali del Manchester City, adesso non me lo ricordo, ma mi pare fosse una card delle due squadre o una per, per cui ce n'era una miriade, per cui è inutile portare le card oltre le 7. Comprate oggi, comprate massimo domani e vendete giovedì pomeriggio entro le ore 17, entro le ore 18, così siete tranquilli. Controllate il prezzo di mercato del giocatore che avete, avete Desciglio, avete Perin, controllate il prezzo di quella carta e andate a vendere. Chiaramente a parità di prezzo è sempre meglio un difensore, è sempre meglio un esterno di centrocampo, è sempre meglio un overall 78+, eccetera, eccetera, eccetera. Comprate, massimizzate, vendete giovedì e raddoppiate i vostri crediti.